Questa è la mia terza partita, ieri ho fatto 20 minuti, probabilmente domenica farò 75 minuti, piano piano stiamo tornando alla normalità. Tanto però non devo fare un'ossessione perché una volta che divento un'ossessione non ci arriva mai, perciò sono contento del lavoro che stiamo svolgendo con i fisioterapisti, perciò le cose stanno andando alla grande. Ormai il ginocchio è una pagina chiusa, adesso cerchiamo solo di riprendere la condizione e del 26 essere il massimo per la prima di campionato. Quindi il 26 è il tuo pensiero fisso? Quello sicuramente, sempre stato, adesso di più perché vedo che le cose stanno andando molto bene, sto tornando a fare i miei movimenti naturali, e giustamente mi manca un po' di brillantezza, un po' di condizione, però abbiamo 18 giorni, 20 giorni da darci dentro, perciò il 26 spero di essere almeno un'ora di preparazione sulle gambe per la partita. Le gambe sono pesanti ma si stanno smaltando, si vede da dei giocatori che riescono a smaltare più presto, che si sta facendo bene. Non vedo l'ora di tornare al Balbero, a giocare, a fare quello che ho sempre fatto. Non vedo l'ora di tornare al mio stadio. Che Palermo sta nascendo secondo te? Sta nascendo un grande Palermo, anche perché dobbiamo essere tranquilli, la prima cosa in assoluto è tranquilli e sereni. Anche perché abbiamo lavorato tanto, perciò il lavoro paga. Per adesso dobbiamo, ripeto, smaltire tutto il lavoro e poi viene fuori il vero Palermo.